Buongiorno a tutti e a tutte. La città la conosco, è ricca di storia. Per quanto riguarda il club invece lo scopro, lo sto scoprendo, tutto il mondo lo conosce e ora che sono qua ne ho contatto diretto. García non è la prima scelta della società ma per il tecnico d'oltrealpe non sembra essere un fattore determinante. Sono in contatto con la Roma da due anni, siamo in un grande club con una proprietà ambiziosa e per me è un onore e un orgoglio essere qui. La cosa importante non è essere la prima scelta di una squadra ma esserne l'allenatore. García che sembra aver già capito cosa non si può toccare a Roma, tesse le lodi di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Per una grande squadra ci vuole un portiere molto forte. Quindi lavoriamo con il direttore sportivo Walter Salvatini per cercare un portiere efficace. Vedrete nel corso della stagione che do molta importanza alla squadra. Ci vogliono giocatori di talento e fortunatamente la Roma li abbiamo. Rudy sembra riuscire a fondere perfettamente lo spirito francese con la verve giallo-rossa dimostrando che, come recita lo slogan della campagna Abbonamenti, nessuno ha più fame di noi. Non ho paura di niente. Sono qui per vincere con la squadra, che si diverta giocando, che faccia divertire i propri tifosi. Ho inviato un sms ai giocatori per dirgli che sono il nuovo allenatore e soprattutto per comunicargli la voglia che ho di parlare con loro individualmente, per dirgli che lavoreremo duro. Grazie. Grazie a tutti.